Buon nello tutti ragazzi, sono Archesius E io sono Alex E oggi riprendiamo quando mi da noi Sì, siamo contenti perché siamo riusciti a fare qualcosa È ad arrivare al terzo piano Non so, entriamo in una porta a casa Ci sarà il mostro di Seqiu Ah, è chiuso Allora entriamo in questo Non è fermato Qua compare Sì, qua compare Sono abbastanza sicuro Aspetta qua c'è una scatola che serviva per prendere qualcosa di male Qui c'è una fottuta chiave Ai 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 Una chiave giovane Come fai a definire una chiave giovane? E' giusto solo un po' E' aperta solo poco E beh però io ho qualcosa Oddio la stanno sfondando La stanno sfondando La stanno sfondando Vai contro un muro coglione No 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 Ok subito giù C'è Porca miseria Cagliata Quattro Sedia proteggimento Due Vai Quante cose interessanti che stiamo a fare C'è una nota C'è una nota Leggi la nota Oddio Ah la traduzione dei simboli Dio mio fatemi prendere un foglio Ok andiamo asciù No la crowbar finalmente si è pinta qualcosa Ce l'ho da metà il Come si fa Come si fa Ti metti a ritene pure tu C'è ancora? Non c'è più C'è ancora Ma che quel Non si può passare di lì Ok Di lì Non si passa Eh allora Ragazzi Ehm Visto che non capivamo cosa dovevamo fare abbiamo barato ok Non 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 capivamo cosa dovevamo fare Abbiamo scoperto anche questi qua Qua sono quattro lettere Le prime sono quattro lettere La frase totale è Vai direttamente a destra E directly to the right Quindi noi ci andiamo E si trovano stanze nascoste così Così Che sì Sono io Ah vai via io Aspetta Sei davvero tu? Beh sì Perché? Ehm Sei un mostro Che sta falsificando la voce di Hiroshi Ehm Come potrebbero farli? Cassie guarda Guardami Cassie Guardami Guardami Cassie Oddio che ha fatto venire un infarto Hiroshi Cassie Stai bene? Si sto bene E tu? Voglio dire Ehm Un po' così Ehm Pensa A quello che voglio dire Siamo tutti spaventati Siamo tutti spaventati Noi? C'è qualcun altro con te? Ehm Ehm Hai mit Takeshi Hai mit Su amica Bazzo Hai si Ryan Hai si Ryan E what's your friend? Era la cosa migliore da dire Sto guardando per Ryan Per un po' Ryan Lei sta bene? Perché Ehm Dov'è? Ehm Ci siamo separati Hiroshi Per favore Non dirmi che tu L'hai lasciata indietro No Lo prometto Ehm 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 C'era qualcosa nella stanza Con noi Gli ho detto di Lasciarmi Ehm Ehm Che sarei venuto a recuperarla Lei era Cosa c'era nella stanza? Non voglio pensare che Ryan sia solo Sia da sola Con qualcosa Nell'armadio Da qualche parte Nell'armadio Questo pensiero mi spaventa Cosa? Cosa c'era nell'armadio? Ehm C'era un armadio Lì dentro Cosa? Boh Ehm Non voglio Non voglio parlarne Mi spaventa Voglio dire C'era un armadio Non lo so Cosa hai scoperto? Come vai? Non scappare Stavo facendo alcune ricerche Quando Ci sono numeri Giornali Cosa c'è nell'altra stanza Cassie? E non ho trovato niente Ma Giù per le scale Ho trovato qualche Scritta Su una Una Scrivania E Sembra che Cassie Sì Non voglio Non voglio Non voglio pensarci Ehm Cosa c'è seduto lì? Ehm Sta prendendo Cos'è? What? Va bene Ehm Ah l'ho chiuso dentro L'ho chiuso dentro L'ho chiuso dentro da qualche parte Come hai fatto? Ehm Cosa? Ehm mi ha seguito C'era una chiave per terra E io Intendi di Posso andare Andare un'occhiata? No 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 Voglio dire Hiroshi No Si Dammi 10 secondi C'è una chiave lì Hiroshi prendi No Parkawa Arrivo ok? Ah si Grazie Perfetto Mi hai fatto uscire Si Sto bene Cassie No Non ci vorrà farmi del male Da lì dentro Ehm Cammina molto lentamente Ma cos'è? Cos'è Roshi? Cosa intendi? Ah Oh no C'è un altro mostro Oddio Ah quello Scarafaggio Eh Ecco perchè non c'era più un mostro gigante Eh No c'è ancora un mostro gigante E non ci si seguiva però E se ce ne furono tanti Eh Fia Ehm Mi sono sacrificato Coraggiosamente Per salvare Ryan Il mostro misterioso Nascosto Ehm Ha cacciato Ryan via No Ryan Ehm Please Per favore dimmi che non sei serio Hiroshi io Dobbiamo accettarlo nel caso Hiroshi tu Tu Ciao Possiamo rientrare nella porta Magari Magari sono la peggiore sorella No Cassie Ah perchè gli ho detto che Poi Sono sicuro che nessuno di noi Ha immaginato niente che come questo sarebbe potuto accadere Lo so ma Dovrei Dovrei Avrei dovuto guardarla da quando le luci sono date via Sono sicuro che Tutto è accaduto veramente velocemente Eh Non devi Ehm Non devi Non devi incolparti per questo Cassie Chi Dopo Di chi è la colpa Mia Ehm La prima parola che siamo venuti qua Dovrei Che non dovrebbe essere qui Ma Ma Takeshi ha detto No Ehm Ero io che gli ho detto di questo posto Tutto quello che conosco Tutto quello che ha detto Praticamente l'ha detto L'ha detto Va bene Basta dialoghi Ok Si Dobbiamo trovare Rai Ok Mi hai scusato qualcosa proprio Si Ah Si R dingen Ok ci sono messi i cassi in tasca Ecco c'è una chiave Una chiave vecchia Aspetta un attimo Entriamo in quella porta Come può essere una chiave giovane Gli ha scritto Una chiave vecchia rovinata Cosa c'è? Ah, hai intrappolato di lente Ah, sei intrappolato Oh, è più curvo Perché è curvo? Perché sei curvo amico mio? Non lo so, non lo voglio sapere L'avrà picchiato questo E basta, ci fermiamo Quindi se il video ci lasciate un commento Iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzi Bella a tutti ragazzi, sono Agisius Io sono Matthew E io sono Matthew Mamma mia che fantasia Comunque, visto che Ale è sommerso dai compiti Siamo venuti nel sostituirlo Mi sembrava ovvio Perché è brutto sto posto qua? È un'uscita Sì, io esco E devo premere E sì You can see È chiusa No, è chiusa Va bene, grazie per l'indicazione Grazie per l'indicazione